Olivia, ti muovi? È pronto! Arrivo, ho finito! È un'ora e mezza che sta là dentro. Non insistete, eh? Faccio tutto da sola. Senti, io ceno con yogurt e insalata. Se ti rilassa fare un cenone di Capodanno va bene, però non rompere le palle, eh. Che fai? Va in paese? No, a cena. Mi piace sentirmi a posto. A cena arrivava lui. Ma ci pensi spesso? Sempre. Mi torna tutto in mente. Il primo bacio, l'amore sugli scogli, è il matrimonio. Lui che mi dice è principessa. Olivia, però non devi pensare a queste cose, altrimenti il rimorso ti uccide. Ma che è il rimorso? Io, quando ci penso, mi dispiace di non avergli sparato prima. Buon appetito. Grazie. Sì, ma io sta pasta non la posso mangiare. Dai, è troppo unta. La pasta è incacciata, così si fa. Ma non ci sarebbe del tofu o seitan? C'è il tofu? Io di secondo ho fatto l'agnale e la crudoce e la frittata di cozze. Io non mangio. Ma tu come fai a non ingrassare? Vai in palestra. Sì, tonnara fitness club. Otto ore al giorno. Dovresti provare. Era soda tanto. Sì. Grazie. 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 Grazie a tutti